Il Regno di Dio cresce lentamente nel silenzio, alimentato dallo Spirito Santo e non è lontano dall'uomo. Lo ha chiarito Papa Francesco celebrando la messa nella cappella della Casa Santa Marta. In particolare il Pontefice ha detto che il Regno di Dio è umile, come il seme, e cresce nel cuore di ciascuno senza vanità, senza clamori, senza spettacoli. È un'opera incessante di perseveranza, anche di sofferenza, e si coltiva con la preghiera, l'adorazione, il servizio della carità. E il giorno che farà rumore lo farà come la folgore, guizzando, che brilla da un capo all'altro del cielo. Così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno, il giorno che farà rumore. Quando uno pensa alla perseveranza di tanti cristiani che portano avanti la famiglia, a uomini, donne, che curano i figli, curano i nonni, che arrivano alla fine del mese con mezzo euro soltanto, ma pregano. E lì è il Regno di Dio, nascosto. in quella santità della vita quotidiana, quella santità di tutti i giorni, perché il Regno di Dio non è lontano da noi, è vicino, questa è una delle sue caratteristiche, vicinanza, di tutti i giorni. Grazie. Grazie a tutti.